Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Il patronato di Santa Maria delle Grazie di Este propone anche quest'anno il Grazie Sport, una serie di tornei sportivi che sono ormai giunti alla sesta edizione. La manifestazione è organizzata da un gruppo di giovani volontari e si propone in una forma giornata includendo il torneo di basket 3 contro 3 che si aggiunge a quello di calcetto Andrea 18 e di pallavolo aperto a tutti. Abbiamo iniziato l'undi 27 giugno con i tornei di basket maschili 3 contro 3 che finiranno giovedì 30 giugno. Dal 3 luglio al 10 luglio ci saranno i tornei di calcetto Andrea 18. Dall'11 al 23 luglio ci saranno i tornei di pallavolo che non hanno nessun vincolo di età. In occasione della serata finale del 23 luglio ci sarà attivo uno stand gastronomico per i giocatori e per i tifosi. Novità del 2011 è inoltre la collaborazione con l'Avis, l'associazione volontari del sangue, per conto della quale verranno raccolte le iscrizioni dei nuovi donatori durante le serate dei tornei. Non resta quindi che stare a guardare e fare un in bocca al lupo a tutti i partecipanti del Grazie Sport 2011.